Nei giorni scorsi, si sono rincorse le voci di una presunta crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Ad alimentarle, un leak dell'ex corteggiatrice di uomini e donne ha una foto che la ritraeva con il suo ex fidanzato. La diretta interessata, però, ha precisato di non essere stata lei a esprimere quell'apprezzamento all'immagine diffusa sui social da colui che un tempo era il suo compagno. Tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, al contrario, sembra andare tutto per il verso giusto. Lo dimostrano le dediche che i due giovani si sono scambiati, in occasione del primo mese insieme. Eleonora ha pubblicato un selfie accompagnato dalla frase, guardami e baciami. Solo per te, per altri mille di questi giorni mio piccolo puccino bagnato. Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Amore mio grande. La replica dell'ex tronista di uomini e donne non si è fatta attendere. Oscar Branzani ha detto di reputare troppo pochi mille giorni con la sua nuova fidanzata. Sono pochi mille giorni, io mi auguro una vita intera insieme a te, amore mio grande. Eleonora Rocchini, dal canto suo, non ha mai perso l'ironia che l'ha fatta emergere tra tutte le altre corteggiatrici. Così, alle dolci parole del suo compagno, ha replicato. E io che speravo di non vederti mai con le rughe. La sua battuta ha fatto sorridere Oscar Branzani che le ha detto un dolce ti amo. Insomma, è evidente che tra loro ci siano ancora amore, passione e complicità a non finire. Chi se ne frega.